ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare calcium app bf pharma srl ultimo aggiornamento 9 dicembre 2021 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze allergeni ingredienti tabella nutrizionale immagine prodotto a cosa serve calcium app è un integratore appartenente alla categoria degli integratori di vitamine e minerali è commercializzato in italia dall'azienda bf pharma srl informazioni commerciali titolare bf pharma srl concessionario bf pharma srl categoria di appartenenza integratori di vitamine e minerali forma farmaceutica caramella pastiglia confezioni calcium app 30 caramella pastiglia 180 g indicazioni utile per il benessere di ossa e denti modalità d'uso assumere due caramelle al giorno calcium app può essere associato con altri prodotti descrizione e caratteristiche integratore di calcio arricchito con vitamina k e d senza zucchero contiene solo 0,1 per cento di grassi avvertenze non eccedere nell'assunzione di vitamina d e k allergeni senza glutine ingredienti calcio vitamina k e vitamina d tabella nutrizionale informazioni nutrizionali per dose 2 caramelle calcio 250 mg 62 per cento nrv vitamina d 3 2 5 mg 50 per cento nrv vitamina k 37 8 mg 50 per cento nrv nrv valori nutritivi di riferimento fonte codi fa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato